Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella like di Trapani E oggi è la giornata in cui si scriverà la storia Perché per la prima volta potremmo andare in terza divisione Yes Siamo lì Dobbiamo vincere Una partita mancante Se vinciamo questa si va in terza Quindi carichi Sì, ci abbiamo a Guero Ah, abbiamo preso Guero in prestito per 3 giornate Prova di passare il turno Sì, che tanto non passeremo il turno Abbiamo anche gatto allo stadio Dai, eh Cazzo Cazzo Non riuscino a servir bene a Guero No Vai, parti Perfetto, perfetto Che cazzo che stop ha fatto No, non mi sa che stavano intercettato O vedi, o vedi, sbagli Credici Credici No, non c'è Non c'è No, non c'è potere ma non mi sono ciao mc giuseppe maria fuori gioco si 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 il terreno fuori gioco boom mamma mia il 10 dai dei stessi salata no no mamma mia no 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 a comma che devo fare, ho tirato ma fai qualcos'altro Giacomo che cazzo, riuscita a passare? oh, ci sei crede eh, grande ciao sono troppo sono caricato a palletta vai Sanchez subito che crede sto nooo ma che cazzo sei cagato dai semmo convintissimo che fosse gol eh, vai, vai, vai nooo e Sanchez si, si, in mezzo va bene Nein Nooo qua chi vuol dire no dai no no oddio no ma che fuori di cazzo per cazzo proprio eh come dico eh fanculo 40 pali dai cazzo calvario voglio vedere un'altra cosa ma vaffanculo che cazzo dici vaffanculo vaffanculo oddio via oddio ma la ricerca non c'è un piano piavalla 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 cristo eh cazzo 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 . cazzo coglione non ho non ho però andò vado un punto Comunque, regà noi ci abbiamo messo tutta, cioè, è in punto. Quattro e tre, la formazione è nostra. Ma che cazzo ti ridi, coglione? Vabbè, comunque, se vedete, se ricomin... Ricominciamo da qui, dalla terza, dalla quarta divisione. Beh, perché vi devo dire che noi... Abbiamo i credi, ma lui non ha voluto comprare i quadratigliari a turè. Comunque, da domani, vedete i quadratigliari a turè. E... Ecco, li vedrete e niente, speriamo stavolta e andremo bene, dai.